Domanda in crescita con un target di consumi che si allarga a diverse fasce d'età e classe sociale. Prezzi che crollano in mercato ormai fuori controllo esaltano il consumo di cocaina nelle piazze cittadine. Una legalizzazione di fatto, illegale nel merito, che riempie le casse della criminalità organizzata. Le recenti operazioni condotte dalle forze dell'ordine coordinate dalla procura locale e da quella minorile hanno di fatto confermato la marcata diffusione delle sostanze stupefacenti in città. La droga gira anzitutto tra i giovanissimi minorenni, in gran parte non solo consumatori ma spesso anche spacciatori. Da diverso tempo ormai ha preso piedi infatti il consumo di cocaina, sempre più diffuso in fasce di età adolescenziali. Sono tanti i minorenni e i giovanissimi che la consumano. Alcuni operatori sociali da anni impegnati sul territorio lanciano l'allarme su un mercato in cui la stessa cocaina non è più una sostanza irraggiungibile o accessibile solo a fasce sociali elevate. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo potuto constatare un grande incremento di giovanissimi che si sono approcciati alle sostanze stupefacenti. Vuoi l'accessibilità, la possibilità di avere magari dei soldi in tasca, vuoi anche rispetto agli spazi e la possibilità di conoscere magari qualcuno che li metta a contatto con le sostanze. E quindi purtroppo c'è stato appunto questo aumento e non solo appunto come consumatori di queste sostanze ma anche hanno un ruolo attivo spesso rispetto allo spaccio. Per attrarre più giovani oggi lo spaccio è aperto alla vendita di minidosi da 0,2 grammi economicamente assai più accessibili. I pusher in questo modo ampliano la base della clientela e riescono a trarre profitti ulteriori. I prezzi bassi invogliano chi ha minori disponibilità economiche. Le forze dell'ordine e la procura da anni ormai conducono un'attività di forte contrasto e si sono susseguite le inchieste antidroga. Il consumo però è parecchio diffuso e non trascura le fasce di età più basse. Chi segue da diverso tempo le realtà sociali del territorio è convinto che tutti debbano collaborare per formare e informare i più giovani e i minori. Più si abbassa l'età di approccio alla sostanza maggiori sono i rischi ovviamente per la salute non solo fisica ma anche e soprattutto psicologica dei ragazzi che vengono a contatto con le sostanze diciamo in maniera così precoce. Per cui fare appunto delle azioni di prevenzione e sensibilizzazione partendo dalle famiglie passando per le parrocchie e la scuola diventa sicuramente molto importante per cercare di contrastarne il fenomeno. Solo in questo modo si potrà determinare maggiore consapevolezza rispetto agli effetti di sostanze come la cocaina destinate a creare una stretta dipendenza. C'è chi non sottovaluta l'incidenza che potrebbero avere programmi e progetti finalizzati proprio alla formazione. Fornire maggiori dettami alle famiglie è un altro passo che può rafforzare la prevenzione.